Iscriviti al nostro canale gioco cazzo da buono buono eccomi buongiorno e me vieni qui sei tu? no io si ne prendo ecco ma dove vai? ma che cazzo scambia il chiuso? vieni fuori vieni ma dove cazzo vai? ma solo i bambini mince scambiano il chiuso sono aperto ti ho chiuso ah non è dissi che sono chi truffa scambia il chiuso che hai di moddato? di moddato io c'ho questa cos'è? legacy è legacy moddata oh e legacy è moddata no no sei che cosa c'è legacy moddata è troppo trodico no ah ma mi sa che è legacy a questo si è legacy no neanche fa vedere no non è manco legacy c'è tanto foto troppo ahGB ah ma vedi grazie Nel legacy montato Ma non ha l'elemento selezionato legacy legacy a questo se volete vi craft un'arma lega se c'ho il progetto Si datemi 40 di quarza ve ne ho fatto una gratis a testa 20 Quanto me ne hai dato? Quella che c'è in maniera lega ragazzo Mi sto droppando e ve ne sto droppando una legacy via non guardate Ah perché io vado di ora Ascoltate raga ma che c'è tipo una spada specale? Eeeh ce lo lo so forse solo non lo so forse il magazzino ce l'ho Hai giocato? Hai giocato sei? Ah cazzo frappi per avere un boccato Con legacy una testa Nooo Legacy? Si Non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è? Non c'è l'elemento più che altro non c'è? Ciao 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 No c'è quella legenda epica non mi piace aspettate che posso fare perchè si può fare a parte te faccio le mani non ho dato eh dai 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 no che ti porto ma sei io? mi è caduto fra mi è caduto mi dispiace guarda non c'è la minacca mi sa che ce l'ho già aspetta vorrà controllare non lo so l'uomo scambio in via il testo di amore amore l'uomo 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 perchè non lo scambio lancio allumina acqua l'uomo l'uomo essendo che il tuo amico cattivo te lo dote ho detto che non lo scambio te lo regalo a serio ma se non lo faccia il nuovo ma se non è un ragazzo però è acqua acqua non ho mai scoperto tra ore percsa elemento acqua non è un giro se non c'è la lana in merita perché non è un'altra parte la cosa è un lavoro un comune il mio lavoro è un lavoro è un lavoro obbucco roma passato non è come calore un uomo non lo voglio ma non è che il muro mamma grazie bellissimo ok mi sembra di andare a unico progetto regalino dipende da chi è vero ma va non me ne faccio nulla mi scusi vieni qua 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 ma hai visto il genere tutto il passato non è mio questo è regalo ma non so non posso vieni qua 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 essi mi sarebbero efficienti eeehh poi ho scritto è presente inizio adesso ci sono molti rompi datemi a regalati di permesso ci stava che hai cioè che cosa aveva cercato avete capito permesso ecco sì sì mi dà una spazza spazza a casa ma non è un'idea di inizio fuori non apriamo non ci sono a guardia in ogni la carta non non di nuovo ma la rega non è stato un'idea ma i miei 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 Raga divertitevi Raga divertitevi No 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 Vieni qua No 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 Troppo Tipo 40 30 30 30 30 30 30 30 30 20 io so che ho... ma ci possiamo fare? c'è tutto eeeh! io vorrei dare qualcosa a caso io posso fare? ah! non so se non le adianto misurire per foro ma io ce l'ho pure quello ma noi non vedo che eh toglone no no, non ti può fare non ti può fare che po regione io non c'ho ho qualcos' ah no, no, no avete visto l'altra cosa dici niente il nuovo per per ieri ok la natura del mondo non ci ha preso per questo quello che non dobbiamo un nuovo acqua grafica tutte venite no 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 nooo raga siiii siiii vai vai o eeeh 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 raga eeeh eeeh sii il ah as a come mi sottrapassavate, non lo voglio Allora, aspetta! 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 Guarda, andiamo a prendere con calma, eh! Guarda, guarda! Andò a guarda qui! Oh, scuotto- batteries Ok, guarda! Data pulsante! Aspetta! Questa? Oh! Oh ilASS! Questa è la pirale di tutte Aspetta! Aspetta! Uffff. Niiiio cute Vieni Iieni 5 per qualche modo per prendere la stessa inizia e che è una volta di comportazione delle mezze nooo aspetta 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 non ho la qua questa me la cosa pure me tieni la mia prima rinvento ahahah ahahah aspetta rinvento 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 dopo questa roba che ci hai dato io non ti vorrei chiedere se hai uno più di acqua ecco lo buono no no non ce l'ho non ce l'ho nocturno aspetta nocturno aspetta non ce l'ho però ne ho uno più c'era chi sai sei tu ho questo al posto con l'acqua vengo ah ma non lo voglio io sono un numero devo tenermi la casa sì 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 un doppelamento quella non ce l'ho visto madonna grazie nooo ahahahahahah ahahahah 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 a non riuscita più nulla che succede ok io non mi favo no ma non mi mette perchè no no si cosa fa ma questo lo lascio a te grazie in una la mia la mia mamma non è successo ma non si se va ma ma se crash il gioco come stai non ho mai avuto aspettiamo il mondo del mondo del mondo del mondo del mondo ma non lo voglio non no ma non non ho pagato non ho pagato non ho pagato ragazza ma ci c'è il mio mamma non è troppo c'è un video che dovete salutare ma lì io non 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 ma ma mi mi non mi volevo l'uomo m non c'è io inizio è mai successo la rega toglosso anche le spade dai come ricordo no doppio l'amore senza il suo progetto non sono l'amore grazie buona ragazzina voi trovate come le tazze mi chiamano grazie, 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 nice to check sono 10,9, prima volta quando c'è un gioco? stai capire il gioco? mi sa che c'è un gioco? ma non conoscevi che finisce il gioco? ma io non ho una idea, non sai capito mi servono spazio, ok, mi servono zaino madonna no oh no io ho fatto una domanda che ha detto che non mi dico le due a me non mi dico è la faccia non mi dico di analogo ma non è il mio nome 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 bostoso un po' di materiali si è venuto non mi sa più nulla raga non vi sta più nulla no 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 lo prendo io allora con la cosa che faccio un altro video ok lasciamo una mia grazie con la vista o questa roba qui vi sto no 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 ok va bene se neanche la mia meraviglia un balletto insieme ai per salutare tutti non mi sa più nulla raga